Mi sembra che non ho informato, che ho dato una notizia grande per me, che non ci sono convenzionati, che non ci sono arrivati a un giorno con Valero, che lo aiuta Valero a tenere la rifineria a aprire, per non sorprendere la ultima ora di Valero a Puloglio. La nostra storia di rifineria di Lago in Aruba, la nostra storia con il tempo e il liderazgo di mi diffondo, avevo una felice memoria del libertatore di Aruba, Lago Exxon, che si riferisce a Lago per il governo di Aruba, e il governo di MEP, dopo una vittoria elettorale nel 1909, ha negociato costante. Non ci sono interessati, in vista che la dinamica economica dell'industria petrolera è diversa da un prezzo crudo tra i 40 e i 50, non ci sono desiderati a mettere una relazione con Aruba, ma non ci sono. E sai che non, con Valero lo deve traspassare la rifineria di Aruba, per il governo di Aruba? Il governo di Aruba lo lanta un enveicato al 100% di pueblo, di gobierno. Ma poi a me riferiria di Aruba, enveic, riferiria di pueblo, enveic, e tu riferiria e riferiria la queda di nostro paese, di nostro pueblo, di nostro gobierno, e gli altri metodo, in questo motivo per il governo di Corsò, in qualche 25 anni passato, non lo sono due, a su un long list agreement con PDVSA per operare la rifineria e realizzare, se invertererò un po' di placca di riferiria, di riferiria e di arruiria di riferiria, per capire e portare una rifineria con long term viabilità. mirando tutte le dimensioni per ora che potete convertire la rifereria per operare a base di gas in base di heavy pitch con il lavoro che è heavy fuel oil con il lavoro che è operato in budget è un'inversione di conversione sumamente grande perché è un'inversione che non è disposto a pagarsi e sempre la nostra vita è stata realizzata con PDVSA la Compagnia Nazionale di Petroli di Venezuela mirando la nostra località è stata realizzata sempre è stata un'inversione naturale per la nostra rifereria la nostra rifereria è stata realizzata la rifereria di Aruba è stata realizzata per il tempo di processare il crudo venezolano la dieta di rifereria è stata realizzata per il crudo venezolano e ci sono di informare al nostro paese con PDVSA a comunicare con noi con il nostro interesse ma è stato sumamente interesse di rifereria di Aruba ma è stata realizzata con il nostro paese con il nostro paese con il nostro paese con il nostro paese un panorama nuovo di interesse di rifereria ma è stata realizzata con il prossimo il prossimo il prossimo è stato con il nostro paese ma di messa con la maniera di energia con la Commissione, mi credo personalmente che io non ho confianti con la Commissione che il governo che nombrano, ma mia opinione che il governo non ha gana di avere rifineria, il governo non ha la volontà vero di avere rifineria non ho visto la bocca per fare un cos però quando accionano, non ho fatto altro un esempio categoricamente ma compro D, quando ho primitivo e il príncipe, quando ho desmantelato la rifineria di Aruba passare a Bahia Príncipe Bin non ho confianti con la Commissione con la Commissione, ma di messa lo che nombrano, come si chiede con la Commissione, ma di messa lo che hava rifineria bec, mi lo ti engane chiede con la Commissione, ma di messa pa sobra la trana di rifineria e lo ti engane hava rifineria bec un coso sicuro, ma che hava rifineria bec mi saco di mas partito nel Parlamento nella PDR sicuro che hava rifineria bec con l'AVP che hava rifineria bec mi lo che chiede con il certo miembro di Parlamento di AVP lo che hava rifineria bec non è tutto però un coso sicuro come Parlamento e l'organo ma salto di rappresentazione di nostro paese noi, ma si chiede con la Commissione come si chiede con la Commissione di Parlamento pa sobra il governo per manipulare ma si chiede con la Commissione 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 che si chiede con la Commissione di integrante di MEP integrante di AVP integrante di PDR per non confermare lo che non confermare a me che PDVSA non solamente ti interese che PDVSA ti interese di aver rifineria bec di Aruba grazie a tutti